Il 2022 è stato un anno di grande crescita per la nuova Team, la municipalizzata totale gestione pubblica che gestisce la raccolta di rifiuti urbani nel comune di Teramo. Tra gli obiettivi raggiunti la manutenzione e riapertura dei cimiteri, la raccolta differenziata che vola al 75% e che fa di Teramo il comune più virtuoso d'Abruzzo, il rinnovo di mezzi, ma soprattutto l'aver ottenuto un finanziamento di 28 milioni di euro per la costruzione del biodigestore. Nel nostro ripercorrere l'anno non ci siamo limitati solo alla legge urbana, ma abbiamo cercato anche di fare un focus su altre attività, i cimiteri con le riaperture, il montaferro e tronovo che abbiamo messo in funzione ieri, l'Atari, oltre a questo non possiamo dimenticarci della legge urbana, progetti tanti, quello che risalta di più all'occhio è l'investimento fatto per i mezzi, abbiamo preso una palla nuova con un caricatore innovativo. Il focus sull'ambiente a Teramo non termina qui, l'assessore comunale Martina Maranella porta a casa anche un altro risultato, oltre 600 mila euro per la realizzazione di 14 pensiline intelligenti. 14 pensiline che cercheranno di abbracciare tutto il percorso del trasporto pubblico locale, quindi dalla cona con l'atterrato passando per l'università e per l'ospedale. Intelligenti perché saranno munite di un sistema wifi, di connessione wifi, e un monitor che permetterà al viaggiatore sia di sapere il tempo di percorrenza del viaggio e soprattutto di sapere in quanto tempo arriva dal punto di partenza alla pensilina, quindi l'attesa per il viaggiatore. Oltre a ciò i monitor saranno utilizzati anche per sponsorizzare eventi e mostre culturali nella città di Teramo. Questo è un percorso lungo che ha portato avanti, un lavoro lungo che ha portato avanti l'assessore di Padova, poi l'assessore Verna e con il grande supporto del consigliere Passerini e oggi ci approcciamo all'approvazione di un progetto definitivo esecutivo per una spesa complessiva di 600 mila euro.